oggi ti farò dormire, devi solo dormire non devi fare altro quindi mettiti comodo, rilassati dormi, 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 dormi e goditi questo video ASMR tutto bellissimo questo video è in collaborazione con Yeboda ci sono offerte pazzesche sul sito di Yeboda per la Black Week fino al primo dicembre ogni giorno cambia promozione quindi date un'occhiata al sito ora vi mostro i miei quattro prodotti che non devono assolutamente mancare nella mia skincare routine di Yeboda The cleansing duo è fondamentale nella mia vita per struccarmi la calma palma rimuove perfettamente tutto il makeup e io mi trucco tanto tutti i giorni non unge la pelle è un profumo buonissimo la polvapola invece fa rimuovere completamente tutti i residui di makeup che abbiamo sciolto con The Calma Palma grazie all'acido salicilico pulisce la pelle in profondità e fa anche una leggera esfoliazione da più rifairo è il mio siero di Yeboda preferito io ho una pelle mista grassa e utilizzando questo siero mattina e sera sono riuscita a ridurre le imperfezioni e mantenere la pelle sempre uniforme e luminosa applico il night light che è la crema notte adatta alle pelli miste e grasse non contiene oli quindi non unge la pelle ma allo stesso tempo idrata in profondità e grazie alla mia cinamide è perfetta per il mio tipo di pelle guardate la mia pelle come è luminosa dopo questa skin care con soli 4 prodotti se non avete mai provato i prodotti di Yeboda e avete una pelle simile alla mia vi consiglio assolutamente di provare almeno questi 4 prodotti e di approfittare delle offerte che ci sono in questi giorni fino al primo dicembre sul sito di Yeboda ciao benvenuto ben tornato nel mio posto tranquillo e sereno oggi oggi te farò dormire devi solo dormire non devi fare altro quindi mettiti comodo rilassati e goditi questo video smr tutto per le volte tutto per te 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 ripetere un po' tu tutto per te il ve inglese piña in tu è piña Grazie a tutti. 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 Dormi... 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 dormi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dormi. 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 Tanti bacini della buona notte. Dormi. 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 ok bing 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì.